Amici di Unibet.it siamo al giorno della verità, siamo al momento della verità, siamo alla sfida scudetto. Il Napoli primo in classifica che continua la sua striscia positiva deve affrontare allo Juventus Stadium, la Juventus, la formazione che ha fatto grandi record, 14 vittorie consecutive, numeri incredibili. Si sfidano l'attacco e la difesa più forte, si sfidano due squadre di grandissimo livello, si affrontano due squadre che stanno facendo grandi punteggi, soprattutto in quelli che sono i numeri, se pensate che hanno le stesse vittorie. La Juve ha perso un po' di più, il Napoli ha pareggiato un po' di più. Anche sui gol, gli azzurri sono il miglior attacco, ma la Juve segue a poche lunghezze, così come il Napoli segue la difesa della Juve, 15 contro 19. Questi sono un po' di numeri di una sfida eccezionale, una sfida che vede il capocannoniere del torneo, Gonzalo Higuain, e io vorrei giocarmi il Pipita come primo marcatore, non so perché ma mi esce questa idea, questa idea un po' fuori dalle righe. Le quote le ho viste, è chiaro che la Juve è favorita perché allo Juventus Stadium, pensate, l'ultimo gol è stato di Ilicic a dicembre, quindi difficile segnare nel tempio della Juventus, però allo stesso tempo il Napoli è squadra che segna sempre, almeno un gol lo fa. E allora sarebbe bello giocare anche gol, in questo caso, forse under in altri casi, e soprattutto il risultato. A Napoli si spera di vincere, però anche un pareggio potrebbe andare bene, un pareggio che significherebbe rimanere in testa alla classifica, e il Napoli vuole rimanere in testa alla classifica. Sarà una sfida stellare, difesa, centrocampo, attacco, ma anche, pensate, le riserve sono di grandissimo livello. Godiamoci, amici di Unibet.it, godiamoci Juventus-Napoli, e che sarà quello che sarà? Lo vedremo poi nelle prossime settimane.